Ciao ciao a tutti e bentrovati sul canale. Spero che stiate tutti bene, che abbiate passato una bella settimana. La mia è stata molto intensa, molto molto intensa e a parte aver finito appunto l'esperienza con Luca il seminarista poi è stata una settimana in cui non c'è stata una sera in cui ero a casa e non c'è stato un pomeriggio in cui ero a casa. E quindi oggi nonostante la bella giornata, come potete vedere dai raggi del sole che illuminano la mia testolina ho deciso di rimanere a casa perché mi erano rimaste indietro un po' di faccende, ho dovuto sistemare un po' di armadi e ho preparato poi la pasta della pizza che andremo a finire di farcire stasera con la Lucy e adesso avevo veramente un po' di tempo e mi son detta perché non girare il video sui profumi autunnali, sui profumi estivi che comunque mi introducono all'autunno. Avevamo girato, avevamo, insieme tutti avevamo girato avevo girato una prima parte qualche settimana fa, poi avevo preso il covid e ho avuto il problema dell'olfatto, non sentivo assolutamente più nulla oltre che al gusto adesso tutto è ritornato nella normalità quindi in questi giorni mi sono scritte i miei appunti mentre mi spruzzavo i profumi, le mie sensazioni e ho deciso di condividerle con voi premetto come sempre, come qualsiasi video che troverete sul mio canale che io non sono un'esperta di nulla, sono solo appassionata e quindi quello che sentirete nella descrizione nel raccontarvi questo profumo perché secondo me i profumi vanno raccontati con delle emozioni è quello che io sento sulla mia pelle, le sensazioni che mi rimandano, i ricordi che mi riportano come mi fanno sentire e non sarà sicuramente uguale per nessuno al mondo perché ognuno di noi ha dei ricordi al quale legare dei profumi ha delle sensazioni diverse, ha una pelle diversa, ha un pH diverso e quindi quando ci si spruzza il profumo ovviamente è diverso per ogni persona poi certo in base alle note olfattive uno riconosce se un profumo piace o non piace però non è detto che ci si ritrovino le note olfattive della descrizione della scheda del profumo siccome io non sono un'esperta cosa faccio ogni volta? spruzzo il profumo, mi scrivo le sensazioni vado poi su Fragrantica e controllo se quello che io ho sentito è così, quantomeno corrispondente in una minima parte alcune volte sì, alcune volte no ma veniamo a noi primo profumo, ragazzi guardate qua mi sono scritta un tema cioè il fatto di preparare per gli altri video no, ma qua mi sono scritta i temi sui profumi mi piace tantissimo questa cosa attacco disegno, attacco i miei appunti mi piace un sacco sono ritornata come quando ero le superiori perché riempivo le agende di adesivi, di disegni, di frasi, di smile, tutte queste cose qua va bene, questo era una piccola parentesi creativa se poi ad un certo punto vedo che diventa buio o voi non mi vedete più, accenderò la luce però per il momento mi sembra che ci vediamo abbastanza bene sono qua in camera hobby perché poi giù c'è Lucia e Paolo e quindi ho detto va bene stiamo qua e vediamo allora, la seconda parte tratta di 1, 2, 3, 4, 5 profumi quindi 6 profumi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 profumi sarà una puntata lunga non so se riuscirò a capitolarla non ho capito bene come funziona la storia dei capitoli su YouTube arriveremo anche a lì voi gustatevela, interrompetela guardatela in una settimana fate come la mia amica Franci che la fa andare sul telefono ad una velocità massima e poi mi scrive per Whatsapp per chiedermi le cose che ho detto nel video perché lei non le ha sentite siccome andavo troppo veloce ovviamente ciao Franci, ti voglio bene e quindi nulla praticamente vi racconterò quali profumi ho usato in estate in quasi tutta l'estate a parte nei giorni veramente proprio più caldi, caldi, caldi in cui utilizzavo soltanto le acque profumate ma che secondo me sono perfetti per l'autunno e allora io non sono molto stagionale nei prodotti sia per la cosmesi sia per i profumi oppure per i trucchi quello che mi piace è uso sono molto passionale diciamola così sono molto di pancia si dice cioè io se una cosa mi piace la uso non mi interessa se magari è indicata per l'estate allora dei cosmetici magari ci sono alcuni attivi che sono più indicati per l'estate piuttosto che per l'inverno o per la primavera però generalmente i profumi io li uso sempre tutti e in tutte le stagioni perché magari un giorno di inverno in cui nevica magari perché non nevica neanche più ho voglia di sentire un profumo estivo e me lo spruzzo cioè è finita lì insomma è un profumo che magari mi fa ricordare una giornata estiva un piacevole pomeriggio in compagnia di una mia minica e appunto siccome i profumi sono legati ai ricordi da qua partiamo primo profumo che vi voglio presentare è il famosissimo perché è strafamoso Sunflower di Elizabeth Arden allora qui lo vedete in tonso perché l'ho appena ricomprato io di questo profumo penso di averne consumate delle vagonate perché è un profumo legato alla mia adolescenza non erano moltissimi profumi che mi potevo permettere in adolescenza e non c'era internet non c'erano i social non c'erano i negozi online e quindi andavo a comprarlo nella mia profumeria di fiducia che c'erano tutti i profumi di Elizabeth Arden dal primo all'ultimo penso di non averne provati forse uno o due per il resto li ho provati tutti e li ho ricomprati tutti 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 nell'arco fate conto la mia adolescenza ha 18 anni io ne ho 52 quindi quanti anni sono? 34 anni? in questi 34 anni penso di averli ricomprati più 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 e più volte questo forse è la quarta o la quinta boccetta che compro c'è stato qualche anno fa non ricordo se due o tre anni fa in cui non riuscivo più a trovarlo era non lo so non lo trovavo su notino non lo trovavo da nessuna parte quindi ho smesso di ricomprarlo l'anno scorso l'ho ricomprato l'ho usato e adesso l'ho finito e l'ho ricomprato perché secondo me è un profumo per me per quello che è legato ai miei ricordi per quello che è legato alle mie sensazioni buonissimo ma leggiamo gli appunti che la Eli ha diligentemente preso in questi giorni perché ci vuole del tempo per preparare un video e ragazzi poi qua voi io mi sembro ruspante alla Carlona ma insomma mi sono anche preparata allora Sunflowers Sunflowers di Elisabeth Arden lo catalogherei tra i miei profumi vintage come vi dicevo prima perché è un profumo che fa parte della mia vita da da quasi 30 anni insomma lo compro lo ricompro da decenni un profumo floreale fruttato che nasce nel 1993 ok quindi io avevo 23 anni e da lì ho cominciato a usarlo e non l'ho più smesso non l'ho più smesso nel senso che l'ho sempre ricomprato dal naso di David Apil Appel voi prendete le cose che vi dico come ve le dico lo sapete che né l'inglese né il francese fanno parte della mia formazione io so parlare benino l'italiano perché mi ricordo la mia maestra dell'elementare Vanda Scuri diceva sempre chi più legge meglio scrive e meglio parla e questa cosa a me è rimasta nel cuore dalla terza elementare ed è così da sempre e quindi l'inglese non lo so il francese non lo so voi riderete vi fate una bella risata che vi allarga il cuore e va bene così insomma non mettetemi il pollice in giù che è così tanto brutto dai va bene finiamo qua allora le note floreali di questo profumo sono note di apertura melone tantissime melone pesca fiore d'arancio limone mandarino bergamotto legno di rosa brasiliano note centrali ciclamino osmanto rosa gelsomino rizoma di iris note di base sandalo muschio ambra muschio di quercia legno di cedro sono tantissime cosa percepisco io allora al primo spruzzo ora lo rispruzzo perché vabbè tanto comunque mi piace allora al primo spruzzo c'è questo mix agrumato di limone mandarino bergamotto ma c'è anche preponderante il melone e la pesca un mix agrumato ma dolce di frutta matura di frutta estiva matura come il melone e la pesca quella pesca zuccherina quella pesca bella grossa con la pelle vellutata matura e e si sente in maniera direi preponderante sia il melone che la pesca dopo i primi dieci minuti un quarto d'ora diciamo da da quel tempo lì in avanti inizio a sentire le note fiorite del ciclamino attenzione non il ciclamino da serra quel ciclamino che ritrovate il ciclamino come lo possiamo definire che trovate nei boschi il periodo di fioritura del ciclamino da bosco non da fiore adesso non mi viene il termine non l'ho segnato è un profumo abbastanza intenso circoscritto al fiore trovate ciclamini nei boschi almeno noi qui abbiamo la fortuna di avere tanti tanti boschi dove passeggiare in quel sottobosco vicino agli alberi di pino dove generalmente si trovano anche i funghi e in quel sottobosco dove ci sono tutti i pini intorno tutti gli aghi di pino sottobosco molto fitto un sottobosco profumato di terra legnoso sentite assolutamente il profumo del ciclamino anche se magari voi non lo vedete se avete la fortuna di trovarne diciamo un gruppo insieme di 4-5 il profumo lo avvertite in maniera davvero molto intensa e se vi avvicinate io non li raccolgo mai i fiori di campo i fiori di bosco raramente veramente molto raramente perché mi piace vederli nel prato mi piace vederli nel bosco e preferisco che rimangano che rimangano lì se voglio mi compro il ciclamino in vaso perché il loro posto è lì non è a casa mia e voi lo sentite davvero molto intenso un profumo boschivo fiorito ma non troppo fiorito ecco pian piano diciamo il mix di profumo di agrumi di melone e di pesca lascia il posto al profumo di ciclamino e al profumo di gelsomino si sente parecchio e anche il profumo di ciclamino ad un certo punto lascia il posto al gelsomino le note fruttate devo dire nel corso della giornata le sento molto molto meno vanno pian piano a sparire e invece torna in superficie il profumo legnoso un po' legnoso un po' ambrato quel profumo rotondo dell'ambra quasi caldo e quindi io lo trovo perfetto per la stagione autunnale sia per la stagione estiva proprio per l'esplosione di fragranza molto agrumata e fruttata all'inizio ma poi lo trovo veramente perfetto anche in questa stagione noi abbiamo la fortuna in questo periodo di avere un ottobre quasi estivo almeno qui a Lecco le temperature sono molto diverse dagli ottobri di tanti anni fa nei pomeriggi di questa settimana abbiamo avuto 25 gradi quindi direi quasi un inizio di estate e io lo uso piacevolmente perché nella freschezza delle prime ore mattutine qui quando vado al lavoro me lo spruzzo e sento veramente il fresco della frutta il il frizzantino degli agrumi e poi pian piano durante la giornata invece esce un po' quello che è la nota di fondo che sono il sandalo il muschio una scia che ho imparato in questi giorni che si dice sillage in francese presumo ma io preferisco chiamarla scia perché ci sono comunque i significati e le parole in italiano e io parlo l'italiano quindi una scia sulla mia pelle molto intensa nelle prime ore diciamo rimane abbastanza forte invadente in maniera positiva non stucchevole non nauseante però quando voi lo spruzzate poi io che sono molto generosa negli spruzzi dei profoni ma molto generosa chi si avvicina a me lo sente ma non mi è mai stato detto mamma mia che profumo fastidioso cosa stai anzi mi dicono ah che profumo ma si sente la pesca qualcuno qualche collega mi dice ah ma hai un profumo di pesca hai un profumo di frutta quindi vuol dire che comunque nelle prime ore della mattinata diciamo esplode questo mix agrumato fruttato di frutta matura di frutta dolcina prettamente estivo che comunque colpisce e sente anche chi è vicino a voi a me sulla pelle dura l'intera giornata come vi ho detto prima diciamo prima si sentono le note fruttate fiorite e poi pian piano si passa alle note un po' più magari cupe chiamiamole così del leno di cedro del muschio del sandalo dell'ambra ecco queste sono un po' le note che io avverto a fine giornata ma sulla pelle mi rimane davvero davvero tantissimo allora vediamo se vi ho detto tutto sì allora io l'ho trovato su notino quest'estate sì metà estate in offerta ed era a 8 euro e 69 ora non so se ha lo stesso prezzo ma lo trovate a prezzi molto variabili vi controllo vi controllo vi consiglio sempre di controllare se trova prezzi punto it perché vi fa vedere la miglior offerta e così voi potete valutare se è il caso di comprarla su un sito o su un altro questo è un profumo secondo me che non passa mai di moda come per mio modesto parere tutti i profumi di Elisabeth Arden quelli al tè nelle varie declinazioni sono profumi soprattutto quelli al tè molto estivi molto leggeri sbarazzini adatti a tutte le donne ecco questo lo trovo più adatto ad una donna non matura ma sopra i 30 anni su una ragazzina secondo me sarebbe un po' too much proprio per l'evoluzione che ha il profumo nell'arco della giornata queste sono le mie umili impressioni perché non mi piace mai definire un profumo per l'età di una donna uomo o donna tra questi profumi troverete un profumo prettamente maschile che io utilizzo e che mi piace tantissimo però diciamo che ecco l'impressione che ho è che non è adatto per esempio a una ragazzina come Lucia di 18 anni ce n'è uno che è adatto a delle ragazzine molto giovani ma che io che ne ho 52 lo porto e mi piace tantissimo quindi come vedete non c'è età per i profumi non c'è età per i cosmetici non c'è sesso per nulla cioè ognuno secondo me deve fare quello che gli piace come gli piace l'importante è che non recchi danno e che non recchi disturbo a nessun altro poi siamo liberi e di questo ringraziamo il signore o qualcun altro allora secondo profumo che per me è stata una scoperta ragazzi l'ho comprato quest'estate e lo sto centelinando perché non riesco più a trovarlo mi piace tantissimo allora questo è il profumo fresia e pier di jenny glow che dicono sia dicono perché io francamente non l'originale non l'ho mai non l'ho mai comprato non l'ho mai neanche sentito il dupe di english pier e fresia di joe malone questo io non ve lo so dire ho scoperto questo profumo e diciamo questo marchio tramite i video di debbie debbie my life ciao debbie ti saluto perché per me sei una presenza preziosissima soprattutto per la mia carta di credito e in un video dove lei spiegava i suoi profumi estivi profumi che gli piacevano ho visto questo profumo dalla descrizione che lei ne ha fatto l'ho comprato al buio l'ho comprato al buio su notino questo è un mamma mia ragazzi non ci vedo 30 ml e l'ho pagato su notino 8 euro e 16 quest'estate non c'è più su notino non c'è più ho visto che però su qualche altro sito c'è quindi io quando lo finirò questo profumo lo ricomprerò senz'altro perché è un profumo che mi ha fatto innamorare allora non lo trovo anche questo che buono che è non lo trovo un profumo da ragazzina assolutamente no io mi immagino una donna molto elegante di una certa come dicono i miei figli mamma vai a comprare queste cose ti metti questa cosa ti trucchi così c'hai una certa ebbene questo è il mio profumo adatto ad una donna di una certa di una certa età comunque secondo me dai 35 anni in su una donna che ha avuto già una vita un passato allora non è che io non sto descrivendo la donna che sono io perché mi piacerebbe essere così ma non lo sono una donna che indossa dei gioielli raffinati e che nonostante l'estate e il caldo ha un modo molto elegante e moderato di scoprirsi cioè insomma non è che si mette così tutto in evidenza perché l'eleganza è anche il vedo e non vedo una donna molto composta una donna con un tacco una donna con un tubino nero e magari con una casacca di seta sopra o con una sciarpina al collo un profumo per me elegantissimo mi piace mi piace davvero tanto le note di testa sono bergamotto pera fiore d'arancio cuore rosa fresia irabarbaro fondo paciuli e ambra è un profumo buonissimo io percepisco subito al primo spruzzo le note di cuore io percepisco irabarbaro il rabarbaro e la rosa e queste per me rimangono tutta l'intera giornata poi dopo un bel po' di ore si sente l'ambra che rende il profumo più pieno più rotondo e il profumo intenso del paciuli per me è un profumo unisex è un profumo molto elegante è un profumo quasi d'alti tempi quando i primi giorni me lo spruzzavo io sono convinta di aver già sentito questo profumo ora non so se ma tanti tanti anni fa è un profumo che mi ricorda qualcosa una fragranza che io ho sentito su una mia zia su qualcuno che aveva comunque una certa età e lo sentivo sui profumi una donna che indossava un twinset magari azzurro polvere con i capelli laccati cioè ecco mi dà questa impressione di una donna di una certa età di un certo livello che è sempre elegante raffinata ma è scomposta il capello pettinato magari cotonato laccato cioè non so questa è la sensazione che mi dà questo profumo io lo trovo lo trovo meraviglioso mi piace tantissimo ha una durata molto 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 lunga sulla mia pelle e sui miei vestiti tant'è che alcune volte magari se la maglietta la tengo uno o due giorni poi alla fine se voglio cambiare profumo cambio anche la maglietta insomma al verso la fine ritrovo un po' una nota muschiata che è probabilmente regalata dalla fragranza del paciuli che si mescolano poi alle note ambrate si sente poi anche la rosa molto delicata non invadente un profumo davvero adatto ad ogni stagione io questo l'ho messo davvero anche d'estate anche nelle giornate più calde non è too much è un profumo sì forte sì corposo però regala un'eleganza secondo me meravigliosa cioè io lo vedo adatto ad una donna di successo sicura di sé non ad una ragazza l'ho già detto che così vuole sentire vuol far vedere che c'è io quando l'indosso allora io non sono quel tipo di donna ovviamente voi mi avete benissimo capito ma mi piace sentirmi così anche solo per me stessa quindi se devo affrontare una giornata al lavoro che so magari critica perché è un lavoro antipatico perché devo avere a che fare con delle persone che anche no se voglio andare a gamba tesa ma sempre rispettosa ma voglio far capire chi sono e che quello che dico non cioè deve essere capito insomma non sono la ragazzina di 18 anni che è arrivata nell'ufficio a lavorare io metto questo profumo per me è un profumo davvero meraviglioso mi piace tantissimo un profumo che trovo veramente adatto a qualsiasi stagione e spero di riuscire a ritrovarlo perché mi piace mi piace davvero davvero tanto vi ho già detto quanto l'ho pagato sì nulla questo è il secondo il terzo profumo per me è stata una scoperta tesori d'oriente forest ritual allora io ho sempre snobbato tesori d'oriente prima di scoprire i video delle amiche sui sui profumi boh li ho sempre scansati cioè andavo al Tigo Town e le altre catene commerciali mi davano l'impressione di essere quei deodoranti ma neanche di proprio ottima qualità ma neanche buona cioè non lo so come mai non li ho però mai provati poi guardando i video dei vari youtuber molto più professionali e molto più preparati e precisi di me ho capito che comunque non è che era una trovata pubblicitaria che questi profumi veramente potevano valere qualcosa e allora ho detto vabbè sai cosa faccio vado al Tigo Town quando sono andato a trovare al Tigo Town a fare le mie compere ho trovato questo profumo e un altro a 2,99 euro erano scontatissime ho detto vabbè ritual forest ritual sarà un profumo fresco che che sa di foresta insomma c'è ed è stata una scoperta allora vi leggo quello che c'è sul sito di Tesori d'Oriente riguardo a questa linea il profumo del benessere il forest buffing l'ho detto giusto letteralmente bagno nella foresta è un rituale di benessere giapponese che prevede una rigenerante immersione nelle foreste per assimilarne tutti i benefici in un ambiente puro e incontaminato è stato dimostrato che trascorrere tempo all'aria aperta nelle foreste e nei boschi aiuta a risvegliare i nostri sensi allontana lo stress e rafforza le difese immunitarie allora io mi trovo perfettamente d'accordo con questa descrizione un profumo che mi ha colpito tantissimo mi piace da morire allora una scoperta davvero un profumo energizzante che mi ha regalato una sensazione di benessere profonda dal primo spruzzo in quest'estate torrida mi ha stupito mi ha regalato delle sensazioni meravigliose penso sia uno dei pochissimi profumi che ho messo tutta l'estate quando lo mettevo mi regalava una sensazione ma anche adesso ma soprattutto dell'estate con quel caldo che c'è stato veramente antipatico e fuori cioè che non c'è mai stato appena lo spruzzavo sulla pelle io ho pensato più volte a questa immagine l'immagine di un bosco io mi avvicino sempre come immagine all'immagine dei miei boschi se qualcuno è andato nei boschi che ci sono negli intorni e sulle montagne di lecco ma come tutti i boschi che ci sono in qualsiasi montagna o collina ecco un bosco con delle piante molto fitte con degli alberi molto alti molto fitti la luce penetra veramente pochissimo c'è quel profumo di sottobosco e di umidità che regala quasi una ventata di freschezza soprattutto se ci andate d'estate poco illuminato le fronde degli alberi sono di un verde intenso e si percepisce nelle vicinanze anche se noi non lo vediamo un ruscello un ruscello dall'acqua limpida e fresca subito quando percepite questa nota di acqua vi sentite meglio vi sentite come dissetati non so se avete mai avuto quell'impressione a me è successa parecchie volte quando ancora ero leggiadra e snella andavo a fare la settimana padre e figlia con mio papà e mio papà era un montanaro esperto un camminatore davvero molto esperto e mi portava a fare delle gite lunghe una settimana facevamo dei percorsi si arrivava magari a fine giornata dopo sette ore di cammino in cui tu eri veramente stanca cioè non ce la facevi più lui era allenato io no perché lui ci andava tutti i giorni in montagna io ci andavo una volta ogni tanto e poi comunque dopo sette otto ore di cammino comunque il fisico è stanco i piedi cominciano a farvi male ecco quando io avevo questa sensazione quando mi capitava di essere vicino a un corso d'acqua a un ruscello a una fontana solo dal rumore dell'acqua che scendeva nella vasca o dell'acqua che scendeva nella zona dove c'era il ruscello diciamo senza poter togliere gli scarponi e pucciarci magari i piedi per rinfrescarsi e avere un attimo di ristoro a me sembrava di bere e quindi di dissetarmi e questa sensazione mi faceva sì che poi io andassi avanti quell'ultima mezz'ora e arrivassi al rifugio o ritornassi a casa o a prendere il pullman dove per tornare a casa ma una sensazione di come si dice di freschezza di arsura che sia stata dissetata spero di essermi riuscita a spiegare in qualche maniera davvero una sensazione a livello fisico bellissima che ti dà quella spinta per ritornare sulla via per ritornare a camminare io l'ho provata parecchie volte questa cosa e la sensazione di questo profumo sulla pelle è una sensazione di questo tipo una sensazione davvero energizzante dissetante che ti dà una spinta per iniziare per andare avanti poi mentre siete davanti a ruscello chiudete gli occhi vi rendete conto che ci sono dei sassi dei sassi ricoperti di muschio quel muschio che se siete come me si raccoglie per fare poi il presepe si lascia seccare si raccoglie e si mette per fare poi il presepe il mio papà lo raccoglieva sempre quel muschio che sa di terra che sa di umido che sa di vita che sa di legno che sa di aghi di pino un profumo molto terroso ma veramente buonissimo molto profondo e quindi è proprio un profumo se non vogliamo dire di foresta perché le foreste da qua qui da noi non ci sono proprio un profumo di bosco sia estivo perché comunque anche se fa caldo nel bosco c'è sempre quel ristoro c'è sempre quel fresco soprattutto se avete l'opportunità di andare in un bosco che abbia tanti alberi dove la luce penetra veramente pochissimo ma in questa stagione andare nei boschi è meraviglioso e io lo trovo veramente indicatissimo anche se è un profumo che ho appunto scoperto questa estate lo trovo indicatissimo per questo periodo è secondo me il tipico profumo da passeggiata autunnale dove uno va a cercare funghi ecco ve la dico così ma tanto lo sapete che io non sono un'esperta e parlo di sensazioni e questa è la mia sensazione è davvero un profumo secondo me meraviglioso ci ho ritrovato anche lo zenzero perché nella testa ci sono le note di limone e zenzero quindi voi lo sentite è energizzante è frizzante quasi pizzicorino sulla pelle nel cuore c'è la rosa e la ninfia bianca ninfia bianca che io francamente non ho mai sentito e non so neanche se abbia un profumo la rosa si sente secondo me è una rosa gialla quindi una rosa dal profumo fiorito sì ma anche fresco e in fondo c'è il legno di inocchi ambra e muschio e ambra e muschio li conosco e quindi li ho riconosciuti il legno di inocchi non so come sia ma ecco mi ha dato questa sensazione molto molto legnosa molto intensa è un profumo che alla fine comunque si scalda si riempie parte da queste notti un po' più frizzanti poi si scalda grazie anche all'ambra e al muschio io lo trovo davvero perfetto per una giornata autunnale e adesso cambiamo profumo perché mi sono già dilungata a sufficienza allora il profumo che vi dicevo giovanile e fresco è questo dell'erbolario albero di giada allora secondo me è un profumo adattissimo alle ragazzine oppure adatto a quelle donne che si sentono delle ragazzine mua sono io anche se i miei figli dicono che c'ho una certa allora è un profumo fresco sbarazzino allora fatemi vedere dove ho messo le note di apertura che le ho attaccate da qualche parte sì no non è questo ah no non le ho trovate le note perché le ho cercate sul sito sì ho trovato una una descrizione davvero molto succinta ecco è una fragranza come vi dicevo giovanile fresca sbarazzina che regala gioia che chi la indossa è una donna dinamica simpatica molto energica molto frizzante sbarazzina che canta come meglio quando lo indosso la mattina per andare in ufficio poi accendo la radio a balla e con giù i finestrini canto perché questo profumo mi fa sentire così allora le note che ci sono sono bergamotto rosa gialla tè bianco verbena esotica e ambra quelle che percepisco per quasi tutto il tempo è la rosa gialla una rosa fresca la rosa gialla io ce l'ho nel giardino e quando mi fiorisce ha questo profumo il bergamotto che è molto frizzante molto agrumato e quindi diciamo che sono le note prevalenti di questa di questa fragranza il tè bianco si accoda piano piano nel crescere e poi nell'evolversi nelle ore si percepisce si sente un profumo delicato che regala una freschezza e anche un relax diciamo è un profumo davvero molto delicato ha una durata media secondo me sulle 4 ore io questo quando lo spruzzo entro in macchina la mattina quando poi rientro in macchina lo sento è vero che il luogo dell'abitacolo della macchina è un luogo chiuso quindi rimane all'interno ma comunque è un profumo che rimane non dura 8 ore ma secondo me essendo un profumo davvero così frizzante con delle note molto leggere è anche difficile che per mani è anche difficile che rimanga così tanto tipo e ragazzi io non taglio cioè io sono mi prendete così sono la e quindi va bene così è perfetto per una giornata estiva per una giornata primaverile una giornata assolata dove volete ritrovare un po' la freschezza la brezza dell'aria che vi trasporta il profumo magari di fiori di un campo fiorito come immagine mi ricorda per esempio una camminata in quota magari a 2000 2300 metri dove il caldo c'è dove il sole è molto forte ma voi non lo percepite perché avete quest'aria che è sempre presente questo venticello che vi scompone i capelli e che vi regala quella sensazione di freschezza di aria di montagna di aria pulita ecco un profumo pulito un profumo fresco un profumo davvero secondo me ideale per qualsiasi tipo di donna ideale per le ragazzine ideale secondo me perfetto per andare a scuola non è troppo invadente non è troppo opprimente perfetto per l'ufficio si sente ma non dà fastidio perfetto per quando si ha una riunione dove magari qualcuno ti chiede ah ma che profumo hai messo buono è fresco ma non è stucchevole direi un profumo di tutto rispetto che io sto utilizzando perché mi ricorda le belle giornate dell'estate di quando sono andata in montagna questo è uno dei profumi che mi sono portata quando sono andata in Trentino Alto Adige e mi ricordo appunto le giornate le gite che ho fatto quindi un profumo che apprezzo tantissimo anche in questo autunno così ancora estivo e qua ci stiamo adesso vi parlo di un altro profumo che mi piace da impazzire e che uso con il contagocce è un profumo che ho da parecchi anni lo ripongo quando non lo uso in una scatola chiusa e poi lo ritiro fuori è il profumo anche qua della mia giovinezza io questo l'ho usato tantissimo penso sia il terzo o il quarto flacone che ricompro questo l'ho comprato l'anno scorso l'ho iniziato ad usare in primavera ma l'ho smesso a metà estate quando l'estate è diventata calda e doppimente perché è un profumo che io non ritengo adatto ad una giornata veramente troppo troppo calda perché potrebbe diventare fastidioso cioè almeno sulla mia pelle rimane fastidioso mi vedete ancora sono di qua in ombra però ci vediamo ancora allora le note sono tantissime le note di apertura sono il coriandolo il fiore d'arancio il ribes nero la cassia la prugna il tangerino e la pesca le note centrali anche qua sono veramente tantissime la rosa il giacinto il garofano lo zenzero il gelsomino iang liang la fresia la rosa l'iris l'eliotropio e la violetta no li ho sbagliato qualcosa c'erano due rose però la fotografia non è della rosa comunque questo è un mix molto fiorito le note di base sono il vetiver lo zibetto che francamente non so che profumo abbia il ribes nero il muschio il sandalo il legno di cedro l'ambra la fava tonca e la vaniglia allora Cabotin de Grès è un profumo vintage che nasce nel 1990 dal naso di Jean Claude Delville un profumo per me intensissimo adesso però vado ad accendere la luce cosa ne dite così ci vediamo un po' meglio aspettatemi che ritorno eccoci qua illuminata dalla luce artificiale ok allora per me è un profumo molto 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 fiorito molto 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 ricco molto 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 persistente ma nonostante tutti questi molto è un profumo che io amo alla follia le note che avverto e che rimangono per quasi tutta la giornata perché questo è un profumo che dura un giorno e anche più i vestiti se dovete se lo avete messo e volete cambiare profumo dovete lavarvi i vestiti perché è davvero molto molto persistente almeno su di me io sento tantissimo le note fiorite quindi il giacinto la violetta il gensomino sono quelle che percepisco subito e sono quelle che rimangono quasi per tutta la durata del profumo come vi dicevo prima lo uso principalmente appunto inizio estate o comunque nelle giornate non calde non troppo calde non troppo assolate e poi lo riprendo a fine agosto inizio settembre e lo porto lo porto avanti anche l'inverno cioè è un profumo perfetto da mettere sulle sciarpe è molto persistente e quando poi nell'arco della giornata evolve è un profumo dove alla fine sentite le note del ribes nero quelle bacche carnose belle cicciotte succose quasi autunnali anche se non lo sono e si sente anche il profumo di sandalo e il legno di cedro un profumo che io trovo delizioso è un profumo che a me dà sicurezza mi regala sicurezza quindi se sono in una giornata particolarmente così no perché magari la sera sono nata letto con qualche preoccupazione e poi devo ripartire comunque il giorno dopo con forza e con vigore io il giorno dopo metto lui metto cabotin perché è un profumo che mi regala quella sensazione di sicurezza quel caldo abbraccio che mi trasporta in un giardino fiorito dove il profumo è davvero molto inebriante potrebbe anche dar fastidio è un profumo che probabilmente magari non tutti amano a me piace mi piace davvero tanto ha una scia molto persistente davvero si sente tantissimo devo cercare di non metterne troppo perché capisco che questo probabilmente potrebbe dare fastidio soprattutto in ufficio dove sono io che ho un ufficio non tanto grande siamo in due o tre persone all'interno e questo potrebbe essere un profumo che non a tutti può piacere e comunque è abbastanza too much è davvero per me uno dei must have della mia piccola collezione di profumi cioè mai più senza quando lo finisco lo ricompro perché appunto mi regala quelle sensazioni di donna decisa donna sicura adesso arrivo io e spacco tutto non so come dire ecco questo è la sensazione che mi regala e quindi lo apprezzo lo apprezzo tantissimo mi piace davvero davvero tanto ultimo profumo ma come si dice non per importanza mi piace tantissimo questa frase e quindi io la dico è GMV Gianmarco Venturi allora qui vedete questo è un tester perché è un tester perché l'anno scorso cercavo l'anno scorso due anni fa non ricordo perché adesso con questo distacco temporale del covid non riesco mai a percepire quando ho fatto le cose cercavo un profumo da regalare a Mattia quindi sono andata da Tigotà e ne ho sentiti ne ho sentiti alcuni io sono molto affezionata a Gianmarco Venturi perché per parecchi anni ho utilizzato il profumo Gianmarco Venturi donna che era se trovo un'immagine ve la metto un flacone quadrato che ho scritto Gianmarco Venturi in oro punto non sono più cioè in questi ultimi anni non sono più riuscito a trovarlo non so se non l'hanno più fatto se se non esista più non penso che abbiano cambiato la la confezione perché non l'ho proprio più trovato come profumo ho visto che c'è su Etsy a 36 40 euro ma tipo i 25 ml quindi poi francamente se è un profumo anche vecchio non so in che condizioni è quindi non l'ho non l'ho neanche ricercato e quindi quando la gentile commessa del Tigotà mi ha fatto sentire questo profumo mi piaceva perché ne avevo regalati anche Gianmarco Venturi uomo a Paolo che non ha mai messo fa niente a lui i profumi gli mettono un disagio dice che si sente un disagio quando ha un profumo e quindi poi io quelli li ho riutilizzati e nulla e quindi ho scelto questo profumo Gianmarco Venturi Energy Ode Toilette quando sono arrivata alla cassa la commessa mi ha inseguito e mi dice guarda signora mi scusi siccome questo profumo poi cambierà non sappiamo se non lo riforniranno più o se cambierà il pack le regalo il tester e il tester era praticamente quasi pieno lì ne avevano l'ultimo l'avevano venduto a me per Mattia probabilmente era un profumo che avevano da un po' di anni e io sono stata piacevolmente piacevolmente colpita da questa cosa e mi sono portata a casa a gratis il tester bene mi piace tantissimo è un profumo molto molto fresco acquatico le note le note di apertura sono basilico sono basilico acqua di mare limone di amalfi e bergamotto le note centrali sono pesca gelsomino noce moscata le note di base sono rizoma di iris smuschio cedro della virginia e cuoio allora al primo spruzzo io sento tantissimo un mix di basilico e di agrumi il basilico lo percepisco bene quel basilico bello fresco pieno di rugiada che magari trovate nel giardino d'estate quando vi svegliate presto perché non riuscite a dormire dal caldo a me capita è proprio quel profumo intenso di basilico mi piace tantissimo e un profumo un profumo verde un profumo energizzante molto fresco anche acquatico poi man mano che lo si lo si indossa io ci sento la noce moscata ci sento proprio il profumo della della spezza della noce moscata e verso sera perché anche questo è un profumo che su di me dura tutto il giorno verso sera quindi tardo pomeriggio quando rientro e che lo sento ancora e se per caso rientro a mezzogiorno me lo rispruzzo perché io cioè su di me il fatto della durata del profumo è una cosa abbastanza abbastanza come dire non è che ci potete fare tantissimo affidamento allora cabotin lo metto alla mattina e non lo rispruzzo più perché potrebbe anche diventare veramente antipatico ma la maggior parte dei profumi anche quelli che hanno una durata magari che sono sulle 3-4 ore e poi io avendo la fortuna di lavorare solo mezza giornata rientro a casa io mi li rispruzzo cioè vado in bagno mi cambio magari mi strucco se non devo più uscire e quindi io mi li rispruzzo perché mi piace comunque sentire ve l'ho detto anche nell'altro video mi piace sentire il profumo anche se sto facendo i mestieri o quant'altro insomma quindi nell'arco della giornata pian piano si evolve e io sento molto diciamo la parte più mascolina tra virgolette di questo profumo quindi il leno di cedro e il cuoio diventa un profumo più rotondo più caldo più pieno più completo mi piace davvero tantissimo per la sua evoluzione pensando a questo profumo mi è venuta in mente un po' la nostra giornata no? partiamo la mattina con le ore della mattina che siamo frizzanti energici freschi perché non abbiamo ancora lavorato perché non abbiamo fatto ancora nessuna attività poi man mano che ci avviciniamo alla sera diciamo queste noti frizzanti quindi questa così energia che abbiamo questa voglia di fare pian piano si smorza arriviamo a sera dopo aver così concluso la nostra giornata abbiamo bisogno di una coccola abbiamo bisogno di qualcosa di più caldo di più confortevole e quindi non so ci sediamo in poltrona ci beviamo magari un bicchiere di porto o un bicchiere di marsala io lo faccio in inverno mi piace tantissimo non sempre però ogni tanto se ho bisogno di rilassarmi un attimo dopo una giornata intensa mi siedo in poltrona leggo un libro e intanto sorseggio un bicchiere di porto un bicchierino un bicchierino di porto un bicchierino di marsala con la stufa che va che mi riscalda ecco mi regala quel comfort quella sensazione di calore quella carezza che diciamo va a concludere la giornata e quindi questo profumo di cuoio questo profumo di legno di cedro che si mischia al cuoio un profumo anche abbastanza così intenso e che lascia da parte le note agrumate e fresche che ritroviamo alla mattina mi danno quella sensazione così di completezza che sono arrivata a fine giornata ho concluso la mia giornata quindi oh mi rilasso mi siedo in poltrona ecco questa è un po' la sensazione si sente anche leggermente verso appunto la fine anche la nota fiorita se la sentiamo bene del gensomino dell'iris che regalano appunto quella rotondità quella anche quella nota femminile in questo profumo che è prettamente maschile ecco queste sono le mie impressioni come sempre mi sono preparata ma so di essere stata confusa perché poi nel raccontarvi le cose mi emoziono mi vengono in mente ricordi e quindi un po' leggo e un po' vado a spanne questi diciamo sono i profumi la seconda parte dei profumi estivi che io comunque utilizzo anche in autunno come vi ho detto però non ho una stagione precisa per i profumi io li utilizzo sempre li faccio girare settimanalmente ma anche giornalmente o anche nell'arco della giornata magari li stratifico per esempio questo profumo lo stratifico davvero molto spesso con dei profumi agrumati che mi hanno regalato quelli non ve li ho mai fatti vedere ma magari se vi interessano ve li faccio vedere non sono conosciuti penso siano di piccole aziende della Toscana e del Meridione mi piacciono tantissimo perché sono molto intensi e quindi regalano per esempio a questo profumo che è molto frizzante molto leggero ma anche poco duraturo mischiandosi insieme il profumo al bergamotto che è fatto con degli oli essenziali al bergamotto o il profumo solo di fiore d'arancia io mixandoli insieme a questo ogni volta ho un profumo leggermente diverso che lo rende più ricco lo rende più persistente e mi accompagna per l'intera giornata va bene spero di non essermi dilungata troppo non so neanche a che ora siamo arrivati comunque se sta diventando buio vuol dire che siamo oltre le 5 del pomeriggio io ora vi saluto vado a preparare la pizza prepareremo la pizza al gorgonzola alle cipolle rosse perché ci piacciono le cose veramente leggerissime gorgonzola cipolle rosse di tropea prosciutto cotto e alla capricciosa ecco queste sono le nostre pizze che poi divideremo non sappiamo ancora se Pietro tornerà oppure no soltanto il signore ce lo dirà o soltanto il tempo ci farà vedere se arriva o se non arriva se non arriva oggi lo prenderemo domani ecco va bene io vi saluto vi ringrazio vi auguro un buon weekend e ci vediamo al prossimo video e alla prossima settimana grazie per essere arrivati fino a qui e per la pazienza grazie per la pazienza